Sei pronto ad aprire il cofano? Giustula moltissimi tutorial! E per i ricambi, la scelta giusta è l'app Mr. Auto. Pratica, veloce e più conveniente del sito. Per questa operazione ti serve un filtro per l'aria. Lo trovi nella descrizione del video. Spegni l'auto. Tira il freno a mano. Tira la leva di apertura del cofano e aprilo. Adesso potrai facilmente accedere alla scatola dell'aria per cambiare il filtro. Rimuovi le tre viti della flangia del filtro dell'aria usando un inserto Torx da 20. Non cercare di estrarle. Sono fatte per rimanere nelle loro sedi. Poi rimuovi la flangia inclinandola verso l'alto e tirandola verso di te. Togli il filtro dell'aria. Prima di montare il filtro nuovo, è importante togliere le impurità rimaste nel compartimento del filtro. Se questo video ti è stato utile, like e iscriviti al canale. Confronta il filtro vecchio con quello nuovo per assicurarti che siano uguali. Inserisci il filtro nel coperchio. Assicurati che il bordo di gomma sia inserito nel suo supporto. In tal modo sarà più facile rimettere a posto la flangia. Rimetti a posto il coperchio. Controlla che le linguette siano a loro posto. Poi riavvita le tre viti torx. Operazione conclusa. Puoi sostenereci, clicca mi piace sul video e iscriviti al canale. Grazie a tutti.